Siamo qui in diretta dal convegno Financial Forum con il mio ospite, il dottor Ripamonti di Infront Italy. Dottor Ripamonti, nei vari panel discussions di questa mattina del convegno Financial Forum si è parlato di passaggio generazionale, questa delicatissima fase di un'impresa a cui un'impresa durante il corso della sua vita può trovarsi a dover affrontare. Cosa accade quando una piccola media impresa con un printing di tipo padronale viene assorbita ad esempio da una multinazionale con un cambio inevitabile del management e quindi anche delle logiche di gestione e di controllo aziendale? E soprattutto che ruolo riveste il CFO in questa fase? Come il CFO può agevolare, aiutare la crescita aziendale proprio in questo processo delicatissimo? Per quanto mi riguarda il ruolo del CFO in questo ambito di cambiamento generazionale è molto importante perché il CFO conoscendo i processi e le procedure aziendali può dare valore aggiunto solo se cambia il modus operandi nel senso che si deve un po' trasformare da controllore a business partner. Nel momento in cui il CFO si approccia in maniera diversa al business, si approccia in maniera diversa al management può cercare di mediare tra gli obiettivi il grosso gruppo multinazionale e quello del management. Non dimentichiamo che quando un gruppo internazionale compra un'azienda italiana la compra per dare continuità al business ma anche per migliorare il business e l'indicatore di performance. Quindi è importante il ruolo del CFO che possa dare nuovo management alla multinazionale dei messaggi chiari e delle informazioni per fare in modo che il business migliori e si faccia più efficienza e più efficacia nell'azienda stessa. Quali sono le principali difficoltà che tipicamente incontra o può incontrare un CFO proprio nella gestione di questa delicata fase del passaggio generazionale? Innanzitutto è mediare tra i target del gruppo e i target del management locale in quanto non sempre collimano. I target del management locale sono sempre i target di crescita, di sviluppo del mercato, di aumento delle vendite. Per quanto riguarda invece anche il gruppo e anche logiche di gruppo quindi implementare i processi informativi di gruppo, implementare la compliance e implementare altre regole per standardizzare i processi. Il ruolo del CFO è molto importante perché deve far percepire all'imprenditore e al management locale che questo non serve per controllare il business ma per supportare il business ed è fondamentale. Altra cosa veramente importante sono gli skill e le competenze in azienda. Non sempre gli skill e le competenze che ci sono nell'azienda sono in line con le aspettative del gruppo internazionale. Faccio solo un esempio, è tipico nell'azienda italiana, la conoscenza dell'inglese. Nel momento in cui vieni comprato o da un fondo o da una multinazionale è necessario che tutti parlino inglese quindi è necessario far fare dei corsi d'inglese o se no ci sono sempre due o tre persone che passano il tempo a fare conference call e report verso la casa madre. Last but not least è cambiare la mentalità. La cosa più impressionante è a tutti i livelli sentirsi dire che ho sempre fatto così. Non è detto che se uno ha sempre fatto così sia la migliore soluzione per risolvere i problemi. Ringraziamo il dottor Ipanonti per essere stato qui con noi e a voi studio. Attraggono talenti, li trattengono.